caro mazzucco eccoci qui che bella l'idea delle scarpe c'è andrea qui andrea lucci ce le porto io le porte idee le chiunque mandano tutte le scarpe tutte le scarpe tutte le scarpe sa che tragedia guarda non puoi mai dubitare di lui è lì guardalo jean gabin non è lui il più grande eccola eccola federica caro massimo saluto l'avvocato libera e federica che sono qui studio con noi grande massimo poi grazie di cuore questo te lo dico uso un linguaggio criptico grazie di cuore per quella persona perché mi sembra che le cose si muovono che adesso poi cominciano massoni mica massoni codici segreti no 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 è un amico di massimo un personaggio famoso il quale ci darà una mano compatibilmente ai suoi impegni nessuno gli ha chiesto che è una cosa di a livello personale noi ho fatto una foto con la mano mi tenevo la mano perché mi si era addormentato il braccio mi tenevo la mano poggiata alla giacca quindi si vedeva questa mano curva a destra hanno detto tu pure di che loggia sei dico della loggia di casa mia dico sto lì era un gesto napoleonico gesto napoleonico della catalessi della catalessi sì perché molti infatti hanno anche come dire no malinterpretato la insomma la famosa iconografia che vede napoleone con questa mano così sul petto lì sotto lì sotto cosa c'era 33 no lì secondo me teheranio voleva far portafoglio lui ha detto fermi tutti che qua non si tocca niente non si tocca niente allora anche cristoforo colombo al ritratto con la mano in quel posto non è un caso caro massimo noi siamo ai saluti ti una cosa che non ho mai fatto ma è un impegno che mi prendo avendo di fronte federica e avendo già in studio l'avvocato libera in giornata ti mando la storia di federica questa cosa qui voglio conoscere certamente grazie mille a te massimo grazie di cuore alla prossima settimana massimo mazzucco luogo comune punto net per ai mori insidiato